Un sequestro preventivo di beni immobili, immobili e disponibilità finanziarie di una società produttrice di medicinali e preparati farmaceutici con sede a Casarano, la Sparcol, per un valore di 3.600.000 euro, seguito dalla denuncia di quattro tra soci e manager della stessa società e di una dirigente comunale per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso ideologico e abuso d'ufficio. Le indagini hanno riguardato i finanziamenti concessi a favore di una società con sede nelle Marche e stabilimenti nella provincia di Lecce per la produzione di un medicinale usato come liquido di contrasto per gli esami radiologici di sospette malattie tumorali.